Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo finalmente tornati all'aperto, non sono più rinchiuso in casa dentro la GT86 come video precedenti e oggi vi voglio parlare dell'acquisto di un'automobile usata. Farò una breve guida che tutti possono usufruire da ragazze, bambini che non guidano, non appassionati e voi appassionati che mi seguite in modo che quando andate ad acquistare un'automobile possiate non prendere una fregatura o comunque limitare i danni se questa è una fregatura. Vi auguro non vi accada mai, però con questi brevi semplici controlli si possono capire tante cose. Prima di far partire la sigla e prima di iniziare il video mi raccomando vi chiedo di iscrivervi che è importantissimo per la crescita del canale e perché io continuo a fare altri video. Quindi mi raccomando iscrivetevi qui sotto, se lo fate siete dei grandi. Innanzitutto quando si va ad acquistare una macchina usata bisogna scegliere se propendere per l'acquisto in un concessionario o rivenditore o presso un privato. Sia rivenditore che privato possono avere dei vantaggi. Indubbiamente il primo vantaggio del rivenditore o del concessionario è che potete parlare con un incaricato, un venditore, che se non siete troppo appassionati di macchine o siete indecisi nell'acquisto di una macchina rispetto a un'altra vi può sicuramente aiutare. Inoltre a differenza del privato il concessionario o venditore per legge è obbligato a dare almeno un anno di garanzia che può essere di vari generi ad esempio di conformità assicurativa o della casa madre. Poi il concessionario o rivenditore prima di consegnare la macchina dovrebbe fare alcuni ripristini o comunque controllare la macchina nelle sue principali parti in modo che quando va a venderla non abbia problemi. Invece il privato sotto questo aspetto se troviamo un privato molto molto appassionato probabilmente il trattamento sarà quasi migliore del concessionario perché ci dirà tutti i cambiamenti che ha fatto, indubbiamente sarà più preciso eccetera eccetera. Però se troviamo un privato che non è appassionato che addirittura non gli interessa niente della macchina probabilmente è più un vantaggio avere un concessionario che ha provveduto lui a fare dei controlli sempre che questi controlli vengano fatti ovviamente perché concessionari e rivenditori nel mondo ce ne sono tantissimi. Io dico come bisognerebbe lavorare. Quindi per il mio punto di vista il privato dovrebbe avere un prezzo molto più allettante rispetto al concessionario che comunque deve sostenere delle spese per vendere il veicolo e soprattutto la macchina del concessionario rivenditore viene venduta con appunto della garanzia. Diciamo che non è vista e piaciuta nella maggior parte dei casi poi ovviamente se macchine da 1000-2000 euro le garanzie lasciano un po' il tempo che trovano sono un po' vista e piaciuta ma generalmente una macchina di un certo valore non è vista e piaciuta motivo per cui acquistare da privato si fa però deve esserci secondo me anche un minimo di convenienza economica. Bene una volta che abbiamo trovato il veicolo che siamo interessati e abbiamo fissato l'appuntamento con questi semplici controlli che vi elencherò si possono evitare delle gran sorprese. Punto 1 capire l'originalità dei chilometri della macchina che stiamo vedendo. Come possiamo fare? Un aiuto sicuramente è il portale dell'automobilista. È un portale ad accesso libero dove si può andare a controllare l'ultima revisione della macchina. Quindi se la macchina ha 100.000 km ad agosto 2020 e io vado a guardarla a settembre 2020 e la macchina ha 70.000 km capite benissimo che è stata schilometrata. Da qualche anno il chilometraggio della revisione lo si può vedere anche a libretto. Quindi in mancanza di internet o in mancanza di questa possibilità di entrare in questo portale potete controllare anche a libretto le ultime revisioni se hanno il dato chilometrico. Ovviamente questa ricerca può essere fatta per le auto che hanno fatto almeno una revisione quindi auto che hanno almeno 4 anni. E se la macchina non ha 4 anni come faccio a controllare? Se la macchina non ha 4 anni ma anche se ne ha di più ovviamente bisogna farsi dare le fatture e tutta la documentazione di manutenzione di quella macchina. Così da poter paragonare se ha più di 4 anni anche alle revisioni. Quindi se a febbraio 2020 ad esempio la macchina aveva 100.000 e a marzo 2020 ne aveva 102.000 possiamo capire benissimo che è un normale utilizzo di un'automobile. Invece se a marzo 2020 la revisione segna 100.000 e la manutenzione 90 anche lì c'è qualcosa che non va. Quindi consiglio sempre un paragone tra manutenzione del veicolo e revisione. Se invece non abbiamo la revisione comunque ci possiamo fare un'idea sulla manutenzione che è stata effettuata che ovviamente deve essere coerente e ovviamente deve essere, altro consiglio mio, deve essere fatta da concessionari ufficiali possibilmente che sicuramente conoscono la macchina molto bene in quanto sono concessionari di quella macchina lì o meccanici non ufficiali però che sappiano metterci le mani su quelle macchine. Quindi officine X le sconsiglio se non sanno mettere le mani perché mi è capitato di vedere oli messi dentro a caso senza guardare o addirittura quantità d'olio messe fondamentalmente a caso. Quindi le macchine non sono state mantenute molto molto bene e quindi possono creare problemi in futuro. E se dopo tutto ciò siete ancora incerti sul chilometraggio della macchina date un occhio a queste parti qui. Fianco del sedile guidatore, battitacco d'entrata, volante e infine cambio. Se queste parti sono eccessivamente consumate però il venditore vi dice che la macchina ha 40.000 km fatevi delle domande. Ultima cosa che riguarda i chilometri e poi cambiamo argomento non è detto che solo il rivenditore schilometri macchine ma io ho sentito di casi in cui i privati l'hanno fatto. Quindi bisogna stare attenti a tutto e tutti. Bene che altro guardare quando si va a vedere un'automobile usata? Una cosa secondo me assolutamente da guardare sono le gomme ma non solo per l'altezza del battistrada perché la gomma può dire ben altro. Preferibilmente una macchina dovrebbe avere tutte e quattro le gomme uguali. Può capitare però che qualcuno monti all'anteriore due gomme diverse rispetto al posteriore. Mi raccomando devono essere due e due non possono essere tre e una quindi mi raccomando. Seconda cosa se una macchina è stata incidentata probabilmente avrà delle annate diverse di gomma. Quindi un occhio all'annata della gomma secondo me non farebbe male. L'annata della gomma la si può vedere dove c'è scritto DOT qui a fianco. Vedete 4916. Questa gomma è stata prodotta la 49esima settimana dell'anno 2016. Se tutte e quattro le gomme hanno la stessa annata è ok però capite bene che se uno fa un incidente e rompe una gomma ad esempio anteriore destra per dire la gomma viene sostituita. Anche se viene messa la stessa gomma che abbiamo al posteriore capiamo bene che l'annata cambia. Quindi potrebbe essere un indizio per capire che la macchina ha subito un incidente. O può essere stata cambiata per altri mille motivi magari non è stato un incidente però può essere un indizio. Inoltre diffiderei da chi monta marchi di gomme non conosciuti. Spesso e volentieri chi monta gomme cinesi o gomme veramente scadenti rispecchia un po' l'utilizzo e la manutenzione che fa alla macchina. Quindi eviterei diciamo di acquistare macchine che hanno montate gomme cinesi. Quindi eviterei di acquistare macchine tenute così. Infine per quanto riguarda le gomme vi ricordo che il limite per legge è 1,6 mm. Al di sotto non si può circolare però vi dico che dai 3 mm in giù se andate a acquistare una macchina da rivenditore dovete farvele cambiare. Perché la gomma tendenzialmente è quasi da buttare. O comunque vi fate fare un bello sconto. Terzo step di quando si va a guardare una macchina controllare sotto il cofano. È importantissimo controllare che le tubazioni all'interno del motore siano perfette ovvero non ci siano perdite di liquido che ne derivano qualche problematica. Tanta gente, tanti rivenditori prima di mettere in vendita la macchina la lavano internamente e esternamente e fanno anche il lavaggio del motore. Ovviamente per presentarla in perfette condizioni ed è giusto così. Però ci sono tanti furbetti che puliscono il motore, lo lavano per evitare che appunto queste perdite si vedano. Quindi mi raccomando sempre attenzione. Una volta aperto il cofano e controllato che non ci fossero perdite all'interno le cose principali da controllare sono queste. Prima cosa che possiamo fare è andare a vedere l'asticella dell'olio. Controllare innanzitutto il livello dell'olio, se al massimo o al minimo. Ovviamente se al minimo va rabboccato o va fatto magari un tagliando, non lo so, bisogna capire col venditore o chi vende la macchina. E vedere che l'olio non sia troppo scuro. Perché se è troppo scuro, tendenzialmente nero, è un olio esausto. E dopo perché no, magari dare un'occhiata un po' a tutti i vari liquidi che siano all'altezza giusta e non siano troppo bassi. Dare un minimo d'occhio al motore diciamo. Ah, se vedete dell'olio all'interno del liquido refrigerante, lascerai perdere la macchina. Stessa cosa controllerei sotto il tappo del rabocco dell'olio se c'è una pasta o una schiuma bianca. Anche lì lascerai perdere. Passiamo adesso al quarto punto, ovvero la carrozzeria della macchina. Consiglio sempre di guardare la carrozzeria della macchina sotto il sole, così si vedono molto di più le imperfezioni e si è più certi di averla vista bene. Indicativamente le cose principali da guardare sono le seguenti. Se ad esempio notate una grossa differenza tra la carrozzeria della macchina e magari il paraurti, significa che il paraurti è stato riverniciato. E perché è stato riverniciato? Bisogna andare a fondo. Probabilmente un incidente, una botta, un graffio, ci possono essere mille motivi. Però è stato riverniciato. Quindi consiglio andare a vedere se ci sono eventuali differenze di colore. Controllare inoltre che le parti tra di loro siano assemblate bene, ovvero paraurti, cofani, siano perfettamente registrati. Se non li vedete perfettamente in linea, può significare che hanno subito un danno. Altra cosa, se notate una grossa differenza di riflessione della carrozzeria, ad esempio sulla fiancata si vede che la vernice è in un certo modo, in una parte magari bella, che riflette bene, in un'altra riflette male, si vedono distorsioni, non è bellissima, può significare che è stata riverniciata ed è stata riverniciata sicuramente male. Quindi altro indizio che la macchina è stata incidentata. Se proprio ancora volete avere altre certezze, ad esempio il cofano non è in linea, ci sono dei dettagli che non vi convincono, potete guardare se le viti sotto il cofano sono state toccate, quindi sono magari state sverniciate, rovinate leggermente, può significare che c'è stata un'operazione appunto su quel cofano. Poi con la luce cosa potete fare? Potete guardare contro luce se ci sono bozze, c'è stata grandinata, diciamo che sotto la luce si possono vedere tantissime cose. Infine chiuderei il tema carrozzeria guardando sotto la macchina, per vedere quanti punti di ruggine ci sono, cercate di guardare se il telaio è rugginito. Mi raccomando, se la macchina proviene da zone di montagna, quindi che hanno la neve tantissimi mesi all'anno, probabilmente quella macchina se non è stata tenuta in un certo modo, può avere dei grossi problemi telaistici, perché la macchina magari sotto è tutta ruggine. Quinto punto, finalmente andiamo a provarla questa macchina, chiediamo un test drive, chiediamo che ci venga fatta provare, e questa è forse la parte più importante di tutte, perché siamo noi che dobbiamo capire se quella macchina è cucita addosso a noi o meno, se fa per noi o meno. Dopo esserci seduti, dopo aver messo il sedile nella nostra posizione, gli specchietti nella nostra posizione, la cosa che vi dico di fare, chiudete innanzitutto, se ci sono aperte radio, chiudete tutto, fate in modo di concentrarvi sui rumori della macchina, su cosa trasmette quella macchina, e cercate di capire come vi sentite a bordo. Cosa si può controllare in un test drive? Allora, che il cambio sia fluido nei movimenti, quindi un cambio che ha marce che entrano normali, diciamo. Se è automatico, ovviamente il cambio non deve strappare troppo, cioè deve essere tranquillo. Quindi sentire un po' questo cambio come lavora. Se invece è manuale, bisogna controllare dove stacca la frizione. Se quindi la frizione stacca verso la fine, verso la parte dove si molla il piede, è una frizione che è parecchio usurata, quindi sarà da cambiare. Potete giocarvi questo cam magari in trattativa. Una volta che l'avete scaldata, dateli giù tutto, cioè tiratela questa macchina, ovviamente nei limiti della sicurezza, sentite se è progressiva, se va su bene, se non ha vuoti, sentite come gira il motore, che non ci siano rumori strani, particolari. E ovviamente, una volta che l'avete fatta tirare, fermatela questa macchina. Quindi sentite come reagiscono i freni con una frenata più dolce, con una frenata un po' più brusca. Se la macchina vibra, può significare che i dischi siano vallezzati, o finiti. Quindi provandola si possono capire tantissime cose. Si può guardare lo stato dei freni anche non guidando la macchina. Ad esempio, io ho un disco che è ovalizzato. Qui si sente che c'è un bel scalino, quindi è anche parecchio consumato. Attraverso questo scalinetto, vedete, tra il disco e questo pezzo arrugginito, si può vedere che il disco è parecchio rientrato, quindi è stato utilizzato tanto. Si può guardare anche attraverso l'esterno lo stato dei dischi e poi se si vede la pastiglia, in questo caso non si vede, si può anche controllare lo stato della pastiglia. Quindi non solo guidando, si possono controllare i freni. Prima di andare a vedere una macchina, consiglio sempre di andare a controllare in internet quali sono le problematiche principali di quella macchina per quanto riguarda il motore, gli interni, un po' tutto. In modo che quando la si va a vedere, magari si controlla un determinato pezzo, un determinato tubo, un determinato qualcosa, in modo che quando la si va a vedere non ci si trovi impreparati e soprattutto magari se c'era qualcosa di particolare da controllare, lo si controlla in diretta prima di acquistare la macchina. E poi, oltre alle problematiche, magari dare una controllata a quando vanno fatte alcune manutenzioni speciali, ad esempio se la macchina è a cinghia di distribuzione, a catena, va fatta, non va fatta, diciamo tutte queste cose qui. Ultimissima cosa, la più basilare in assoluto, ovviamente se mi accendete la macchina e la macchina ha spie, bisogna capire da cosa sono dovute queste spie, quindi magari andare a fondo. Bene, questo è tutto, siamo arrivati alla conclusione di questo video, spero il video sia stato di vostro gradimento, era una guida un po' generalista, quindi non troppo specifica, indubbiamente se qualche meccanico qui sotto commenta, dirà questo, 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 però è una guida basic, che diciamo tutti, anche i non appassionati, anche le ragazze, possono andare magari a controllare, perché sono cose veramente semplicissime. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, che mi sembra il 92% di voi che guarda i miei video non siete iscritti, quindi mi raccomando, iscrivetevi, che è importantissimo, se vi piacciono i miei video, così io che possa continuare a fare video, 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 video. E questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!